L'Arezzo calcio femminile ottiene un altro importante successo e tiene il passo di Bologna e Torres, sempre distanti, tre punti. Le Amaranto vincono infatti di misura sul campo dell'Aprilia grazie al gol di Ceccarelli nella ripresa. Le Amaranto confermano tuteri esterno basso ed inseriscono cirri a centrocampo al posto dell'indisponibile Paganini. Primi 20 minuti di gara senza troppi sussulti, complice anche il primo caldo estivo. La prima occasione Amaranto capita sui piedi di Ceccarelli che raccoglie un cross di Razzolini. Casteltrione con qualche difficoltà respinge. Al diciannovesimo rispondono le padrone di casa con una punizione laterale. Valgimigli esce in presa alta e subisce la carica di Galluzzi. Il direttore di gara afferma tutto. Pochi minuti dopo è Aprilia ancora pericolosa con Galluzzi che gira di tacco un cross dalla sinistra. La palla finisce di un soffio fuori. L'Arezzo si riaffaccia in avanti sempre sull'asse Razzolini-Ceccarelli ma anche questa volta si salva la retroguardia laziale. Nella ripresa al 53esimo le Amaranto passano in vantaggio con Ceccarelli che approfitta di un errore di Casteltrione e da 0 metri mette la palla in rete. Le padrone di casa provano subito a pareggiare i conti con Galluzzi che scavalca Valgimigli con un pallonetto ma il pallone finisce alto sopra la traversa. L'Arezzo controlla il risultato e porta a casa la vittoria contro un avversario di tutto rispetto. Con questa vittoria l'Arezzo si porta a 46 punti in classifica quando mancano tre partite al termine del campionato. Prossimo impegno domenica 6 giugno in casa contro la Vista Civitanova. Per i primi minuti abbiamo trovato difficoltà tra il caldo, la stanchezza nelle gambe. Poi comunque il gol è arrivato, l'importante era quello, l'importante era portare i tre punti a casa e è quello che è stato oggi in campo. Fino alla fine non si molla, siamo lì, siamo a tre punti, quindi l'importante noi è fare tutte le domeniche fino alla fine risultato, risultato buono i tre punti e poi siamo lì, non molliamo di un centimetro. Grazie a tutti.